Ecco il più giovane di tutti, Antonio, quanti anni? 90 anni, a Napoli il 90 è la paura, a me Antonio mi fa paura Allora Antonio raccontaci, anzi raccontami, con noi siamo amici colleghi di corsa, dove è nata la tua passione? Tu sei calabrese? Sì. Ah l'induio allora, il piccante. Io sono andato a Polissimi, provincia di Reggio Calabria. E quindi hai iniziato a correre perché? Perché c'è stata un mio amichetto che correva e non sono mai riuscito a prenderlo e da lì mi è venuta la passione di correre. Perciò imitare un amico ovviamente cercare di rincorrelo, di prenderlo. Lo sport è vita, lo sport è salute. E salute, lo sport è vero. E lo dimostra. Eccolo. E lo dimostra. E lo dimostra.